Buon pomeriggio. In questo momento così delicato per il nostro paese e anche per il mondo vorrei dedicarvi un po' di speranza e leggerezza leggendovi alcune poesie in questi giorni. Parto oggi con una poesia di una poetessa contemporanea dedicata proprio a questo delicato momento storico. Il titolo è Guarire di Kathleen Omea. Ve la leggo. E la gente rimase a casa e lesse libri e ascoltò e si riposò e fece esercizi e fece arte e giocò e imparò nuovi modi di essere e si fermò e ascoltò più in profondità. Qualcuno meditava, qualcuno pregava, qualcuno ballava, qualcuno incontrò la propria ombra e la gente cominciò a pensare in modo differente. E la gente guarì e nell'assenza di gente che viveva in modi ignoranti, pericolosi, senza senso e senza cuore, anche la terra cominciò a guarire. E quando il pericolo finì e la gente si ritrovò, si addolorarono per i morti e fecero nuove scelte e sognarono nuove visioni e crearono nuovi modi di vivere e guarirono completamente la terra così come erano guariti loro. Buon pomeriggio, un bacio e alla prossima. Andrà tutto bene.